Via libera dall'arsa la nuova legge elettorale, niente più ballottaggi per i sindaci che superano il 40% delle preferenze, si abbassa il quorum per la sfiducia. Si profila un ferragosto tra i rifiuti per i comuni agrigentini gestiti dalla deda all'ambiente, nei turbini annunciano sciopero per il mancato pagamento degli stipendi. Canicattì, il sindaco Ettore Di Ventura segna le dirigenze vacanti, Angelo Licata, capo della Polizia Municipale, Domenico Ferrante all'UTC e il segretario Domenico Tutto lo Mondo agli uffici finanziari. Bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale, lo avete sentito dal titolo di apertura Via Libera da parte dell'arsa la nuova legge elettorale in Sicilia. Cambiano diverse cose nel servizio. Dopo un lungo scontro l'Assemblea regionale siciliana ha votato le ultime norme della riforma elettorale per i comuni. In apertura dei lavori Forza Italia, la lista Musumeci e Grillini hanno chiesto di bloccare tutto e rinviare il testo a settembre, complice la mancanza di accordi fra i partiti. Ma il Parlamento, chiamato a votare sulla proposta, ha deciso di andare avanti sulla riforma elettorale. Il primo articolo al voto è stato quello che riguarda la mozione di sfiducia, bocciata su proposta di panepinto del PD, la norma che avrebbe provocato la decadenza del sindaco e dunque nuove elezioni nel caso in cui non venga approvato il bilancio. Era una norma molto contestata dal Lanci che avrebbe provocato un terremoto, visto che quest'anno in ben 347 comuni su 390 il bilancio non è stato approvato. Approvato invece l'articolo che modifica il quorum necessario per la mozione di sfiducia contro il sindaco, fino ad oggi per pandare a casa il primo cittadino serviva il voto dei due terzi del consiglio comunale, mentre con la norma appena approvata si scende al 60% dei consiglieri. Il voto in consiglio deve essere espresso per appello nominale. Le norme più importanti erano state approvate la scorsa settimana, la riduzione dal 50 al 40% della soglia per i ballottaggi con l'elezione, dunque al primo turno del candidato sindaco e il premio di maggioranza per le liste collegate. Come contrappeso la riforma modifica il quorum necessario per la mozione di sfiducia al sindaco, basterà infatti il 60% dei consiglieri per mandare a casa il sindaco anziché due terzi del consiglio comunale. Gli articoli del DDL sono stati tutti approvati e l'aula è stata rinviata a oggi per il voto finale al testo. Prima del voto finale l'assemblea esaminarà il fascicolo degli emendamenti aggiuntivi, tra cui quello che prevede l'abolizione della norma sulla doppia preferenza di genere, prevedendo nelle liste il 50% di donne e il 50% di uomini. Un nodo questo che preoccupa non poco la maggioranza. L'ipotesi dell'eliminazione della doppia preferenza di genere nei giorni scorsi ha suscitato le reazioni sdegnate del ministro Maria Elena Boschi e della presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini. Spostiamoci a Portempedocle dove la giunta taglia l'indennità di carica di un ulteriore 30% ed i consiglieri azzerano i gettoni di presenza sia per le commissioni che per le sedute dell'assemblea. Portempedocle cerca in questo modo di far fronte al dissesto finanziario del municipio e traccia la strada della controtendenza. Il taglio dell'ulteriore 30% dell'indennità di carica per l'esecutivo va ad aggiungersi a quello sempre del 30% deciso per fronteggiare lo sforamento del patto di stabilità. Soddisfatto il neosindaco di Portempedocle, Ida Carmina, che nella tarda serata di ieri ne aveva dato comunicazione sulla sua pagina Facebook. E l'assessore alla sanità Emanuele Fiorica del comune di Real Monte ha devoluto parte dell'indennità di carica alla quale ha rinunciato per garantire la sicurezza sulla spiaggia di Lido Rossello attraverso un presidio sanitario con ambulanza dotata di defibrillatore per tutti i fine settimana del mese per la notte di Ferragosto. Inoltre l'ambulanza attraverso una convenzione con il 118 assicurerà interventi tempestivi sul tutto il territorio di Real Monte. Torna la crisi della raccolta dei rifiuti a Ferragosto in 5 comuni della provincia di Agrigento, quelli in sostanza serviti dalla dedalo ambiente. Oggi le segreterie provinciali di CGLC si hanno proclamato lo stato di agitazione degli operatori ecologici di Licata, Palma di Montichiaro, Campobello di Licata, Naro e Camastra. Sono stati decisi 4 giorni di assemblee nelle ultime due ore dei turni di lavoro. All'origine della decisione c'è il ritardo nel pagamento delle spettanze al personale. Ancora una volta la deda all'ambiente scrivono i sindacati non rispetta il termine fissato dal contratto nazionale di lavoro per il pagamento degli stipendi ai lavoratori che devono percepire il 50% della 14esima e lo stipendio del mese di luglio. Il Tar Sicilia annulla il diniego della domanda di decentramento della farmacia espressa dal comune e la farmacista Assunta Danna di Favara torna a scrivere al prefetto di Agrigento Nicola Diomede. Torno a scrivere per trasmettere la sentenza del Tar che ha annullato il diniego della domanda di decentramento della farmacia espressa dal comune che incassa l'ennesima sconfitta. Lo obbliga a provvedere e nomina il commissario d'acca per l'ulteriore inerzia e dispone una penale per ulteriore ritardo e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Una storia paradossale scrive Danna che radice lunga sull'equilibrio di chi ha amministrato la cosa pubblica a Favara. Una bambina di 8 anni si perde in spiaggia, è accaduto ieri pomeriggio a Punta Grande in territorio di Real Monte. Dopo ore ed ore di ricerche i genitori e i soccorritori iniziano a temere che possa essere stata inghiottita dal mare agitato. A Punta Grande sono state convogliate tutte le pattuglie a disposizione della Polizia di Stato ma anche le motovedette della Guardia Costiera. La piccola terrorizzata grazie al Tamtam fra i bagnanti è stata poi ritrovata praticamente a due chilometri di distanza all'Ida Azzurro a Porta Empedocle rispetto a dove invece si era sistemata con i suoi genitori. Detenzione e coltivazione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizionamento e per queste ipotesi di reato che due coniugi di Favara sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile dai colleghi della locale tenenza. Il blitz è stato fatto assieme all'unità aerea del nono nucleo elicotteri di Palermo in un casolare di villaggio La Loggia ad Agrigento. Nel casolare i militari hanno trovato 26 piante di marivana alte circa 3 metri. La perquisizione è stata poi estesa anche ad un'altra abitazione di campagna dove sono state trovate 13 piante di marivana, un sacchetto con 180 grammi di droga già essiccata, un bilancino di precisione, 54 cartucce calibro 12, tutte illegalmente detenute. Va a casa della moglie e trova l'amante nascosto dentro l'armadio. Succede a Canicattì dove un marito sospetta una relazione extraconiugale della consorte dalla quale si sta separando e domenica scorsa si era recato proprio a casa di lei dove scopre un giovane del luogo nascosto dietro l'armadio. Ne è nata una furiosa lite che ha portato alla denuncia del giovane da parte della polizia per minacce aggravate, violenza privata e di inosservanza dell'obbligo di sorveglianza speciale. Infatti il presunto amante tira fuori una pistola, risultata poi giocattolo e la punta alla testa del marito che denuncia tutto agli agenti. I poliziotti intervengono e scoprono che il giovane è un sorvegliato speciale che ha violato gli obblighi e per questo è stato denunciato. Perde il controllo del porter piaggio e finisce contro un palo dell'illuminazione pubblica, il palo si spezza e finisce sopra l'abitacolo del mezzo incastrando il conducente. è accaduto stamattina ad Agrigento all'altezza della traversa che conduce ai campi di calcetto alle 7.50 quando l'SS lanciato da un notebilista di passaggio è arrivato alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco al viare via Reggio San Leone e anche gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale. Avviso di conclusione delle indagini nei confronti di 34 persone indagate nell'ambito del blitz Icaro. A far notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stata la procura distrettuale antimafia di Palermo. 16 indagati vennero arrestati tra dicembre e il mese successivo tra Santa Margherita di Belice, Montevago, Ribera, Cattolica Ereclea, Cianciana, Montalegro, Porto, Empedocle, Agrigento e Favara. Sono ritenuti responsabili a vario titolo delle ipotesi di reato di associazioni a delinquere di stampo mafioso, estorsioni, riciclaggio, danneggiamenti, detenzione illegale di armi da fuoco e relativo munizionamento, detenzione ai fini di spaccio di droga, rapina aggravata e tentato omicidio. Cambiamo argomento, rotazione di dirigenti al comune di Canicattì disposta dal sindaco Ettore Di Ventura. Il servizio. Il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura completa le dirigenze delle posizioni organizzative che erano rimaste vacanti come ad esempio quelle relative alla polizia municipale e all'ufficio tecnico comunale. Per quanto riguarda la polizia municipale il posto dell'ex comandante Diego Peruga, oggi capo dei vigili urbani di Caltanissetta sarà assunto ad interim da Angelo Licata, dirigente del comune ed ex comandante della municipale di Sciacca, prima di risultare vincitore di concorso a Canicattì dove sino ad oggi si è occupata della direzione affari generali. La scelta di Licata da parte del sindaco Di Ventura per andare a ricoprire la carica lasciata vacante da Peruga era ormai nell'area da diverso tempo. Sarà invece l'attuale segretario generale del comune, Domenico Tutto lo Mondo, ad occuparsi della direzione servizi finanziari, ruolo che sino a pochi giorni addietro è stato ricoperto dalla dottoressa Carmelina Meli, incarico però che le è scaduto proprio ad inizio del mese di agosto. Di recente lo stesso Tutto lo Mondo aveva avuto rinnovato da parte dell'amministrazione comunale l'incarico di segretario generale dell'ente che mantiene da diversi anni a questa parte. Altro dirigente nominato è il dottor Domenico Ferrante che si è occupato sino ad oggi della direzione servizi alla città. Sarà lui questa volta ad occuparsi della direzione gestione del territorio e ambiente, ufficio tecnico per intenderci. Con la nomina di questi dirigenti nelle posizioni che erano rimaste vacanti, l'ente andrà a risparmiare circa 250 mila euro all'anno, una somma sostanziosa se si considera la crisi di liquidità che investe anche il comune di Canicattì. Boom di visitatori, domenica giorno ad accesso gratuito come tutte le prime domeniche del mese alla Valle dei Templi di Agrigento. Si sono contate a fine giornata circa 10 mila persone alle 17.30 per accedere dall'ingresso l'atto Tempio di Giunone. La fila di turisti arrivava fino ad alcune centinaia di metri dopo l'imbocco per l'area di parcheggio. Molti si sono anche soffermati nell'area antistante al Tempio di Giunone per assistere al concerto Reading, scritto e diretto dall'artista Elenia Costanza, la trinacria effemmina. Ma numerosi sono stati anche coloro che hanno scelto di percorrere la via sacra per il notturno, ma in questo caso trattandosi di un'apertura straordinaria, l'accesso alla Valle dei Templi era a pagamento. Si susseguono gli atti vandalici nella spiaggia di Torre di Gaffe a Palma di Montechiaro. Dopo il furto dei cestini di getta carte sono stati rubati anche i cartelli che indicavano le attività da evitare per rispettare gli altri. La denuncia arriva dal sindaco Pasquale Amato che dichiara che hanno diventato il cartello delle cose da evitare di fare sulle spiagge di Gaffe, che bella soddisfazione, era un bene comune e magari nessuno se ne è accorto. Così come l'altra mattina, ha aggiunto Amato, nessuno si è accorto che si erano portati via i portarifiuti. Ma qui non siamo di fronte ad una ragazzata, ma al rigetto, disprezzo per le regole e le leggi, roba che dà la dimensione dell'essere selvaggi, perché i villeggianti forestieri dovrebbero venire da noi. Qualche pezzo si era già staccato, oggi una grossa parte del cornicione appena sopra l'ingresso della scuola elementare San Giovanni Bosco di Naro stava per staccarsi del tutto. Sul posto, su segnalazione dei vertici della scuola, si sono recati i vigili urbani, i vigili del fuoco dei distaccamenti di Canicattì e Villa Seta, che con l'aiuto di un'autoscala hanno messo in sicurezza la struttura. Per qualche minuto via Dante è rimasta chiusa al traffico per permettere le operazioni in tutta sicurezza, ad assistere il lavoro dei pompieri e anche un dipendente dell'UTC del comune di Naro. Sport e calcio, l'Acra gas programma già la prossima stagione agonistica e biancazzurri nell'estate del 2017 andranno in ritiro a Santo Stefano di Quisquina, nell'entroterra Agrigentino. Il club e l'amministrazione comunale presiedute dal sindaco Francesco Cacciatore hanno sottoscritto un accordo per l'ospitalità dell'Acra gas a Santo Stefano. Il comune metterà a disposizione l'impianto in erba naturale e tutte le strutture necessarie per favorire la migliore preparazione e permanenza della squadra. I presidenti Marcello Giavarini e Silvio Alessi ringraziano per la disponibilità il sindaco di Santo Stefano, Francesco Cacciatore, lo invitano all'esseneto per la prima gara casalinga nel campionato di Lega Pro della formazione di mister di Napoli. Tra poco più di un mese torneranno a rombare i motori in provincia di Agrigento con la disputa dei rally dei Templi Fabaria Rally che dal 1997 si corrono in abbinamento per il 10 e 11 settembre prossimo. Infatti l'ACI ha messo in calendario la classicissima manifestazione che per anni è stata il riferimento per tutti i rallyisti dell'isola non solo e che sarà valida per il campionato regionale decima zona. Il rally partirà alle 19 e 30 di sabato 10 settembre dal viare della vittoria di Agrigento, classica sede di avvio delle manifestazioni agrigentine con ripartenza prevista domenica 11 settembre alle 7 e 30 dall'autodromo Valle dei Templi di Racalmuto dove la sera prima si svolgerà la prima delle 8 prove speciali. Le iscrizioni al rally si apriranno giovedì 11 agosto e si chiuderanno nel 5 di settembre. Ad oggi il rally dei Templi Fabaria Rally può contare sul patrocino dei comuni di Aragona, Castro Filippo, Favara, Naro e Santa Elisabetta. Offerto dalla regione siciliana e patricinato dal comune di Agrigento, venerdì prossimo con inizio alle 22 in Piazzale Giglia, Aster a San Leone si terrà il concerto della cantante Miele. L'ingresso è libero, l'artista di origine nissena, reduce dal successo di Sanremo, presenterà al pubblico il suo ultimo lavoro musicale dal titolo Occhi. Questa era anche l'ultima notizia del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e a tutti voi arrivederci.